Il mio fratello è stato ritrovato a 78 metri dentro il vostro confine. I morti di frontiera non sono mai di nessuno. Con la negra morta, noi non c'entriamo un cazzo. Le regole, le regole, fratello. Tuo fratello o no? Con un dio! Quando? Domani, sul punto alle 6. Il cassiere è sparito. Stava per portarmi su un centrale. È scappato quei soldi! Non mi fare casino. Io non scherzo mai. Guarda che sta succedendo qualcosa di grosso e poi succede tutto lassù. Tu lo sai, io lo so. Non c'è niente, va. E sei matta qua dentro? Che fai cercando te? Che fai cercando te? Avete tempo fino a domani notte. Altrimenti io qui faccio saltare tutto.